Ogni messa con una parola semplice e convincente, ecco un pastore che nutre. In tempi tranquilli tengono in genere la custodia del greggio sia il pastore autentico sia il mercenario. Nei tempi tranquilli non si capisce chi è pastore autentico. Ma sono i tempi difficili che ci svelano l'animo di chi esercita il compito del pastore. Se noi consideriamo Don Luigi Lenzini prescindente da questo criterio, egli è soltanto un buon prete. Ma furono i tempi difficili di cui parlava San Gregorio Magno a svelare che Don Luigi Lenzini era pastore autentico e non mercenario. Furono i tempi difficili a svelare che quella normalità era eccezionalità. La mia legge del Signore trova la sua gioia. Dalla lettera agli ebrei, fratelli, circondati da una moltitudine di testimoni, Quindi, avendo deposto tutto ciò che è ripeso e il peccato che ci assedia, coriamo con perseveranza nella corsa che ci sta davanti, tenendo fisso lo sguardo su Gesù, colui che dà origine alla fede e la porta con pimento. Non avete ancora resistito fino al sangue nella lotta contro il peccato. Parola di Dio. Parola di Dio. Parola di Dio. Grazie a tutti.